L'obiettivo per l'inizio del 2016 deve essere un maggiore investimento nello spazzamento meccanizzato, il completamento delle isole ecologiche e il via libera al primo impianto di compostaggio. Su quest'ultimo punto il ragionamento con la regione sta andando bene con il finanziamento dell'ecodistretto che noi abbiamo proposto che ci consente di non proseguire quella strada che avevamo scelto nel momento in cui avevamo un muro di no e di nit da parte dell'aggiunta Caldoro, mentre invece da questo punto di vista si è fatto un salto in avanti. Quindi l'ecodistretto cambia indirizzo da Scampia a Napoli? Proprio diverso la modalità di approccio alla città, perché avendo ottenuto noi una linea di finanziamento, noi realizzeremo degli impianti leggeri, piccoli, nelle realtà in cui si può fare una compostiera leggera, penso a quello che può accadere nei parchi, nei giardini, nei condomini, quindi un compostaggio diffuso in tutta la città. L'ecodistretto sarà nell'area industriale di Napoli, dove non è solo compostaggio, è proprio un'area di recupero di tutto il materiale rifiuto in generale, realizzazione quindi di beni utilizzabili, creazione del lavoro, come giusto che sia una città che non è solo turismo, cultura, commercio artigianato, e anche industria e quindi a questo punto di vista non è più necessario quel progetto che noi continuiamo a ritenere utile, ma per una stagione che adesso è superata, perché su questo si è registrato un passo in avanti nei rapporti tra Comune e Regione, nel momento in cui la Regione ha detto no all'incenerimento è cambiato parecchio.